Ciao ragazzi, oggi sperimento l'hashtag short di YouTube, quindi brevissimo video per spiegarvi come calcolare quanto tempo ci vuole per raddoppiare il nostro capitale regola del 72, quindi decidiamo quale dovrebbe essere l'interesse composto dei nostri investimenti che pensiamo di poter raggiungere e facciamo 72 diviso questo numero, ad esempio pensiamo di poter fare il 9% tutti gli anni? Allora 72 diviso 9 uguale 8 vuol dire che in 8 anni potremo raddoppiare il capitale, pensiamo invece di poter fare addirittura il 10%? Allora serviranno soltanto 7 anni e qualche mese. Spero di esservi stato utile, un caro saluto a tutti, a presto, ciao!